ma quale ricetta siamo a fare con quest'alice? l'alice maranate che sono buono per tutti i periodi dell'anno e che sicca come faccio i sungafino romun e tra l'altro sono anche molto molto sicuro vi dovete controllare il video però tutti i segreti tutti i passaggi verità bella sana 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 sto video affino romun l'alice come faccio? allora voglio ora per fare quest'alice marinato dobbiamo fare dei passaggi importantissimi il primo passaggio naturalmente è pulire l'alice spinarla e aprirla al libro allora togliamo la testa vedete poi spingiamo un po' di qua di dietro davanti prendiamo la spina e la stacchiamo da sotto vedete stacchiamo da sotto e così ora ve ne faccio vedere ancora un altro viene a cali o ne? guardate schiacciate come è bello quando il video fa mia moglie è nata cosa proprio poi allargate di sotto prendete la spina di sotto la togliete qua sotto staccate e poi dopo la mettete qua primo passaggio fate così il primo step di pazienza l'abbiamo superata adesso arriviamo al secondo step ora dovete avere un po' di pazienza pure se li prendete a uno a uno con molta pazienza pazienza olimpionica li dovete sciacquare per bene per poi arrivare alla terzo terzo step di pazienza che li dovete asciugare ora li vado prima a sciacquare sotto acqua fredda una volta sciacquata tanto bella andiamola ad asciugare naturalmente babu cuofone meglio no meglio no comunque andiamola ad asciugare tanto bella le andiamo a tamponare e dovete fare poi questo sistema qua vedete vi prendete una placchetta questa qui che però va nel vostro congelatore di casa e ve li mettete tanto bella stesa una di fianco all'altro poi se volete fare che ce n'avete tante amici come me fate anche un secondo strato e un terzo strato devono andare in congelatore per quattro giorni voglio questo è molto molto importante e comunque poi se avete un abbattitore naturalmente la cosa è molto più semplice amo ma quando costa un abbattitore giusto per sapere da mille euro in su quando mille euro è meglio congelatore noi ci vediamo fra 96 euro ed eccoci qua vedete sono passati quattro giorni mamma mia scuccia mente però voglio è molto molto importante per eliminare il parassita annisakis voglio che è molto molto importante non lo dico solo io lo dice l'asano naturalmente è l'unico modo per eliminare questo parassita che è molto molto pericoloso per l'organismo per il nostro corpo bisogna fare così quindi bisogna aspettare i quattro giorni ma adesso che dobbiamo fare dopo questi quattro giorni lo cacciate dal congelatore come ho fatto io il tempo che si scongelano quando si sono scongelate la prima cosa da fare adesso li andiamo di nuovo ad asciugare tanto bello no cofo come ci fate prima e poi dopo vi faccio vedere adesso come ne andiamo a marinare fatto ciò voglio piacere una bella bacinella possibilmente un po più capiente della mia e tenevo solamente chiesto mo mettetevi le alici così vedete e adesso sono bello asciugato allora adesso dobbiamo fare di un po di strati perché vedete c'ho anche altre alici qui allora moca andiamo a fare fai vedere qui andiamo a mettere giusto un pizzichino di sale e andiamo a coprire proprio con l'aceto voglio la marinatura potete fare anche con il limone ok io però stavolta faccio solamente sale e aceto ma ho fatto così vedete il primo strato con sale e aceto ci vado a mettere un altro strato di alici sopra e continuo un'altra volta con sale e aceto fino a finire tutte le alici e a tenere coperte fatto ciò gli strati come vi ho spiegato con un pizzichino di sale e aceto dovete coprire fino all'ultimo vedete con l'aceto ma adesso voglio le dobbiamo rimanere sotto aceto fino a quando non diventano bianche belle bianche cotte e praticamente un pochettino anche un po più un po più durette insomma ok quindi un'oretta e mezza dai lasciamolo stare un'oretta e mezza così con carta pellicola quando diventano bianche vi faccio vedere come le andiamo a condire e possiamo mangiarle passato anche il tempo necessario vedete un'ora e mezza io ho fatto rimanere un'ora e mezza vedete bella bianca 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 ma voglio io che vado a fare ma li sono messi in un colapasta vedete adesso facciamo scendere un po tutto l'aceto in eccesso una quindicina di minuti e ce le andiamo a condire vi faccio vedere come me le condisco tanto bene piccola precisazione se non vi piace troppo il sapore dell'aceto a me mi piace io faccio solo aceto e sale e basta poi potete fare anche solo limone sale o solo limone quello che volete comunque un po che sale ci vuole però se non vi piace troppo il sapore dell'aceto fate aceto e ci mettete anche un poco d'acqua dentro giusto un poco ok quindi avete quel sapore un po un po meno forte però a me mi piace con l'aceto i giacchi si ma mangiasse però c'è già metto il resto guardatevi adesso come li vado a condire mo è arrivato uno dei momenti più belli perché ho più bello che quando ce la mangiando allora sistematevi le tanto belle in danno bello piattino così vedete che fanno già su così come se condisce voglio olio quello lavoro prezzemolo peperoncino e aglio aglio poi scegliete voi se lo volete mettere quello là a pezzettine ancora ancora più piccolini oppure come lo sto mettendo io perché chi non piace può anche toglierlo però voglio l'aglio c'ha da stare lui ci ho mettito così aglio o peperoncino ci vuoi ci vuoi dai poi vi ripeto chi non lo può mettere non lo mette non fa niente aglio l'olio non può mancare poi l'olio mio mamma mia lo cambia nella fine uno vedete ce ne mettete voglio cadata abbondano poco vedete che si devono proprio insaporire alla grande guardate qua va bene così tanto bello possiamo mettere poco poco i produsini tritato fresco sopra vaglio ecco faccio la ricci mamma sono assaggiato naturalmente voglio mi raccomando e coperte anche d'olio e io adesso l'ho messo così perché già lo so mezz'ora e soffronato voglio che si c'ha a papà mio la buonana mio papà mio e un nonno Enzo e un nonno Luigi piacevano tutte e tre che si c'ha quindi mo che sta c'ha la voglio dedicare proprio a loro fammela assaggiarla fammela avrei con me buonissima però un consiglio non fate come ho fatto io adesso che ho mangiato perché è buonissimo ma chissà ti aspettano parlare ora ancora questo ti aspettano ancora altre due tre ore va consulata proprio va recreata proprio e dici di tutto quando appessa a me o veramente salisce su un caffino romone un abbraccio a tutti grazie